La meditazione di questa sera vuole riprendere una domanda che Gesù rivolge ai Suoi Apostoli. La domanda è questa, ma voi chi dite che io sia? Luca 9, 18, 21. Un giorno mentre Gesù si trovava in un luogo appartato a pregare e i discepoli erano con lui, pose loro questa domanda, chi sono io secondo la gente? E riscosero.